bustine 3 kit adesivi istruzioni abbiamo cavo alimentazione per usb cavo alimentazione per un'altra fonte di alimentazione due cavi con descrizione anche dei canali ovviamente e poi abbiamo uno strumentino tre bottoni un mini led e un joystick molto figo dove poi andrà all'incirca qui spostando un pelo a sinistra la manopola così sia tutto sotto controllo dovendolo montare sul mio tenere euro 5 il tenere è molto comodo perché sotto i fianchetti c'è questa spina a tre pin già con un contatto sotto chiave quindi non fatto altro lasciato il cavo un po lungo prima si sa mai che metti che lo devo mettere su un'altra moto ho fatto altro che rimediare il suo connettore femmina isolarlo poi far passare bene tutto il cavetto pari pari tata 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 funziona scuota acceso funziona dunque è collegato appunto sotto chiave alla moto ora immediata intanto un altro cellulare vi faccio vedere indietro adesso l'ho appoggiato qui per farvi vedere dopo verrà bello figo qui con tutta la sua strutturina quindi niente scaricato osman aspetta che mi giro scaricato osman i miei amici mi hanno consigliato scaricata letto il manuale del joy map configurato più standard che si può che non sono un gran tecnologico quindi guardiamo insieme come funziona e niente allora questo qui al momento la ruota mappa non mi va perché mi hanno detto che c'è una versione non aggiornata di osman appunto con questo qui il blu zoomiamo in avanti col rosso zoomiamo indietro poi abbiamo il joy stichino sotto il pomellino che possiamo fare il su il giù il sinistra il destra e con la pomellino clicchi nel mezzo ti riposizioni dove sei quindi direi che è molto 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 completo facile e soprattutto utile perché poi dai capita che il touch volta non prende o piove o sia sporchi eccetera e con questo punto con questo strumentino fatto molto molto bene dicevo che non veniva così bene sinceramente poi dai tutto accettato qui fa la sua porca figura e dicevo appunto che ci vuole è un gadget molto molto utile e necessario adesso vabbè io che la uso una volta in i morti di papa tanto tanto ma che ci spattacca dai ogni settimana è un bel giochino adesso non vedo l'ora di usarlo top ciao ciao